Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovo video acquisti. Sì, anche oggi ho un sacco di cose da mostrarvi e credo che oggi vi piaceranno anche particolarmente, almeno circa la metà delle cose, perché se non sono bambole sono inerenti a bambole, se non sono inerenti a bambole sono inerenti a Disney, a cartoni animati, a manga, quindi direi di cominciare subito. Allora, da cosa parto? Volete prima le cose che magari vi interessano meno, prima le cose che vi interessano di più? Andiamo come sempre a caso? Andiamo come sempre a caso, sì, mi sembra la soluzione migliore. Tanto qui ho un'acqua ossigenata che non c'entra niente, quindi la buttiamo via. Direi di partire da questo sacchetto. Partiamo da questo sacchetto che come vedete è di un negozio che io non conosco, un negozio in cui non sono mai stato, un negozio nuovo su questo canale e ho comprato un paio di cosine molto molto semplici e veloci. Le prime non ci sono perché le ho già tirate fuori. Vabbè, sono delle cuffiette da 1,50€ degli auricolari, molto semplici, sono rosa lì o di là, non sto neanche qua a farveli vedere, però ragazzi devo dire che per 1,50€ non hanno chissà quale qualità, però ci stanno. A me più che altro servivano delle cuffiette degli auricolari per quando mi metto il computer a editare i video, perché purtroppo con quelle bluetooth c'è sempre un filo di ritardo, con le altre che avevo io si stanno smacciullando che è una cosa assurda e quindi per 1,50€ direi che è top. Ho preso, non lo so neanche io, non mi ricordo cosa ho preso, quindi sto... ah sì 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 sì, praticamente scopro con voi. Ho preso questo set di penne, penne, matite colorate, sono watercolor pencil, 12 watercolor pencil più 8 sketching pencil. Ve le faccio vedere perché secondo me per 4€, solamente 4€ sono veramente fighissime. Intanto la confezione è tutta nera fatta così, di latta nera, molto molto bella e semplice, ma all'interno la cosa bella è che ci sono queste 12 matite nere che sono quelle colorate. C'è una mosca che non è una mosca perché sembra praticamente un elicottero. Vabbè noi cerchiamo di andare avanti anche se abbiamo delle intrusioni aliene. Queste 12 dicevo che sono quelle colorate, lo si può vedere qui dal culo che hanno colorato il culo sotto, ma vabbè non vi importa. E poi queste qui, quando io ho letto 8 sketching pencil, ho pensato cosa me ne faccio di 8 matite. Sono 8 matite di 8 durezze diverse, perché come sapete ci sono le HB, le B, le 2B, insomma qua ci sono tutte. Io non sapevo neanche che esistesse addirittura la 2H o la 6B e qua ci sono. Queste matite ragazzi le ho acquistate perché da quello che ho sentito dire in giro per fare una certa determinata cosa, vai via alieno, dicevo che per fare una certa determinata cosa dicono che servono le matite acquarellabili. Ma prima di andare a spendere troppi soldi per un prodotto che poi magari non utilizzo perché magari non lo so proprio utilizzare, ho preferito provare queste qui da 4€. Vediamo se indovinate che cosa voglio provare a fare con le water color pencil. Ah sì, ok, queste qui sono tipo le tart che vanno sciolte, tipo quelle delle Yankee Candle profumate nel loro bruciatore bla 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 e queste qui da Primark costano solamente 2€ di 3,36€. Devo contare guardandomi nello schermo, oggi ho dei problemi molto seri. Questo è il Madagascan vanilla, c'è scritto che dovrebbe profumare di vanilla e paciuli, come vedete ne ho già provato un quadrattino ma non si sente molto con fronte alle solite di Primark. Le altre che ho acquistato di Primark inondano casa, questa qui insomma, quindi se avete Primark queste non ve le consiglio, le altre sì. Poi cosa ho preso? Una confezione vuota perché ho preso un profumatore per la macchina, adesso ve lo mostro perché mi sembrava molto carino, poi ho scoperto essere abbastanza una fregatura. È semplicemente questo cazzino qua che come vedete è tipo un tubicino nero che va infilato all'interno della bocchetta della macchina e dentro cui va messa la ricarica profumata. Costava 3€, il problema è che c'è scritto che dura massimo due settimane. Quando loro danno una tempistica massima solitamente è la metà, quindi vuol dire che se quando lo metto la prima volta si sente del profumo è già un miracolo. Comunque insomma lo proverò. Poi sempre da Primark ho acquistato questi incensi che ho già provato e anche questi qui ragazzi diciamo che per gli incensi pretendo qualcosina di più che non sono di sicuro questi qui. Ok costavano 1,50€ di 20€ ma non lo so. Vabbè e questa non mi interessa la pellicola protettiva per il mio telefono perché sì ho ancora l'iPhone 7 e deve durarmi ancora per tanto. E poi credo sì abbiamo finito e oltretutto non è neanche una cosa di Primark. Mia mamma mi ha regalato un profumo di bottega verde che mi aveva già regalato ed è magnolia nera. Questo qui che non ho capito come ha fatto ma l'ha pagato tipo pochissimo perché mi ha detto che era in super promo. Io questo l'ho già utilizzato, l'ho strautilizzato, è il classico profumo da puttanona che mi piace da morire. Diciamo che appunto questo è un misto tra un donnone e un puttanone ed è perfetto per me, è buonissimo. Andiamo avanti, passiamo a una cosa che sì subito ve la butto lì proprio così con cattiveria ho preso questa Barbie. Questa Barbie che da qui non capirete niente, molti di voi non capiranno che cacchio di Barbie è ed è una Barbie Signature quindi è una Barbie Collector. È la Barbie giorno del diploma. L'ho acquistata, c'è tanto di certificato di autenticità all'interno, ha il corpo Model Muse come vedete ve la mostro, è qui. Ma ragazzi stavo pensando una cosa, so che non me ne frega molto di una Barbie del genere ma io vorrei recensirvela solo per farvi vedere certe cose che trovo un po' inaccettabili. Io l'ho acquistata al prezzo di 14,90€ ma so che ne costerebbe sui 30€ minimo già scontate. Ho avuto la fortuna di prenderla, l'ho presa anche solo per il fatto che ha un corpo Model Muse che mi fa impazzire. Il vestito non sembra fatto malissimo ma questa credo che sia la prova più eclatante di quanto Mattel riesca ad essere a volte imbarazzante. Fatemi sapere qui sotto se vorreste una sua recensione perché ragazzi non c'è proprio tanto da dire, c'è più che altro qualcosa da far vedere perché non lo so, ci sono rimasto un po' male, vi dico la verità, ci sono rimasto un pochino male. Dalla scatola avevo già notato alcune cose ma me le facevo andare bene per il prezzo, poi tirandola fuori dalla scatola mi sono accorto di cose che forse mi avrebbero impedito di acquistarla. Poi ho acquistato un CD, strano ma vero ho acquistato un CD, io non acquisto mai CD. Come sapete a me Frozen piace molto, Frozen 2. Il film come trama non mi è piaciuto molto, visivamente è stupendo, l'ho sempre detto. Amo i costumi di Elsa, amo i costumi di Anna, insomma amo molte cose e altre le odio. Fatto sta che il merchandising mi ha fatto impazzire, a parte quello di Hasbro che mi fa come sempre cagare. Avevo la colonna sonora del primo, ho comprato anche la colonna sonora del secondo perché l'ho trovata in offerta. L'unica cosa che mi dispiace è che sono riuscito a trovare solamente questa qui che è la versione internazionale, la versione inglese. Qui non c'è neanche una canzone in italiano, sono solamente 11 tracce in inglese appunto e per carità mi piace e tutto, però forse se riuscissi a recuperare anche la versione italiana sarei più contento. Andando avanti, se vi ricordate avevo acquistato il primo volume del manga di Sailor Moon, l'Eternal Edition, avevo acquistato il secondo volume che pesano un casino e ho acquistato anche il terzo. Non vedo l'ora di completare questa collezione perché ragazzi sono bellissimi. Come vi ho fatto vedere i primi due vi faccio vedere anche questo. Come vedete questo qui ha Sailor Mars in copertina, anche questo ha tutta quella iridescenza glitterata su tutta la copertina ed è bellissimo. Hanno un prezzo abbastanza alto, non lo metto in dubbio perché comunque costano 15 euro l'uno, però ragazzi per un fan di Sailor Moon sono un must have, bisogna averli assolutamente e io piano piano con calma li recupererò tutti. Ho un altro sacchettino Yankee Candle, altro negozio che io non ho mai visto, non conosco, mai usato i loro prodotti e sono poche cose, sono veramente pochissime cose, ve le mostro velocissimamente. Ho preso due piccole tartine della Woodwick che non sono neanche Yankee Candle, però sono queste due qui. Questa qui l'ho già provata, infatti ne manca un pezzettino, questa devo ancora invece provarla. Sembrano due profumazioni buone, da quello che so sono fuori produzione, infatti le ho pagate scontate, ma mi sono recato al negozio Yankee Candle più che altro per questa, che è la candela dell'anno. Se mi seguite da un post, sapete che vi ho già detto che ogni anno la Yankee Candle fa una candela dell'anno, una profumazione particolare per quell'anno. Le altre due ovviamente le ho già acquistate, della prima, quella del 2019, me ne sono assolutamente innamorato e quest'anno è uscita la Discovery. Non mi piace moltissimo il nome, la fragranza non è così particolare come me lo sarei aspettato perché è abbastanza agrumata, sembra un po' una spremuta, però la confezione è bella, il tappo è colorato, un po' diversa e costa due euro in più, quindi il tappo colorato me l'hanno fatto pagare questi stronzi. Però è tanto estiva, è tanto fresca, un po' frizzantina, non lo so, devo provarla perché come vedete è ancora completamente nuova, l'ho solo usata da qua e boh, vedremo. L'avrei comunque acquistata per un discorso di collezionismo, sapete che io sono fissato quando inizia una linea e devo finirla in un modo o nell'altro, però ecco non so esprimermi ancora bene perché appunto voglio sentirla d'accesa. Come ormai di consuetudine anche oggi faccio il mio saluto in video e oggi devo salutare Valeria. Valeria è stata la primissima a rispondere a questa storia che vi lascio qui, quindi Valeria complimenti, non hai vinto niente perché hai vinto solamente un mio saluto e però ti mando anche come sempre un enorme abbraccio, ma veramente ve lo mando con tutto il cuore. Magari un giorno quando sarò ricco e famoso potrò permettermi di farvi anche dei regali tipo in ogni video, oggi non posso quindi purtroppo vi dovete accontentare di un mio abbraccio virtuale grandissimo e un mio ringraziamento per seguirmi sempre, per sostenermi sempre e per esserci sempre. Quindi Valeria un bacione enorme, ma torniamo al video. Andando avanti con le cose da mostrarvi, una cosa devo spacchettarla con voi, ma prima vi dico che insieme al manga di Sailor Moon, di cui vi ho parlato prima, in libreria, perché l'ho acquistato in libreria e non in fumetteria, mi hanno voluto regalare un calendario, cioè più che altro mi hanno chiesto vuoi che ti regali un calendario? Secondo voi quando qualcuno mi dice vuoi che ti regali? Per me è già sì, il cosa non importa, i regali si accettano sempre anche se fanno cagare, anche se sono merda. Ma invece era molto carino perché questo calendario qui, che ovviamente difficilmente lo venderanno al prezzo di 12,90€ che sarebbe il suo prezzo originale, visto che ormai siamo ad aprile, ma ragazzi è bellissimo. Ovviamente i primi mesi io non li appenderò perché andrò da aprile in poi, però giusto per farvi capire queste sono le immagini e trovo che siano troppo carine. Poi sapete che ho un debole per gli animali e soprattutto per i felini e quando mi viene messa una copertina con una tigre che lecca il tigrotto, cioè tipo io, oh mio dio. No, volete dirmi che la tigre è nel mio mese? Non ho neanche controllato. Giù luglio, agosto, no, ci sono le zebbre. Sono comunque carine perché guardate che tenere, che tipo si stanno abbracciando, però ecco insomma le tigre, ecco erano ottobre. Vi dico che mi sarebbero piaciuti anche tutti. I koala. No, vi devo far vedere i koala. Guardate i koala, dove cazzo sono? Guardate che teneri. Eccoli qua. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Ok, basta. 40 minuti a parlare di un calendario anche no. Siamo quasi alla fine, ma prima di finire voglio dirvi che devo liberare un attimo qua perché ho acquistato, anche se Pasqua è passata da un po', questo. Questo qui di Frozen. Anche perché ragazzi lo metto qui davanti e torno illuminato perché mi faceva ombra. Questo coso l'ho acquistato al prezzo di 8 euro, ma l'ho voluto acquistare perché per una volta, è una cosa che apprezzo molto, non c'è scritto da nessuna parte, sì come vedete io l'ho già aperto, piccolo spoiler perché ero troppo curioso, però non c'è scritto niente su nessun lato e trovo che sia molto carino. In più la scatola diventa un castello, ma non lo farò adesso, se mai lo farò più tardi e magari vi metterò qui una foto di come diventa questo castello, però ragazzi vi devo dire che mi è piaciuto un sacco, anche perché vi stavo dicendo non sono riuscito a trovare un video su YouTube che mostrasse il contenuto di questo uovo, quindi ve lo mostro io. Allora troviamo per prima cosa un numero del magazine di Frozen attualissimo perché vedo che Hasbro ha voluto mettere un numero molto attuale, infatti è esattamente del 18 agosto 2020, quindi uscito ieri, e poi all'interno c'è l'uovo ovviamente azzurro, io ho già, oddio casca tutto, aiuto aiuto aiuto, ce la faccio eh, vi giuro che ce la faccio, ovviamente azzurro, ho già aperto una sola cosa, il resto lo guarderò con voi, e all'interno c'è questo, come sempre sono mezzi vuoti queste cose, queste uova, però a differenza dell'altro uovo di Frozen, in questo caso c'era almeno una bambola di Elsa, che io ho già deboxato perché volevo studiarla un attimo per capire se fosse una cosa furba, cosa che ovviamente non è, peccato, i capelli non sono male, il viso, il viso è il viso Hasbro di Elsa, niente di che, le gambe, vi faccio una recensione tipo ultra mega flash, neanche una fast review, di più ancora, le gambe non si possono piegare, fanno solo avanti e indietro leggermente a lato, le scarpe non si possono rimuovere, perché sono un tutt'uno con la gamba, sono modellate sulla gamba, e ragazzi il busto è azzurro, io pensavo di togliere l'azzurro e provare a ricolorarla, insomma provare a customizzarla un pochino, e invece no, non si può, perché tutto il busto è fatto di plastica azzurra e sono le mani e il collo che sono colorati di color carne, in più questa robina che ha qua dietro non è realmente attaccata, perché è abbottonata con questa roba qui, trovo che sia una cosa abbastanza imbarazzante, però cosa ci volete fare? A parte che ovviamente in un uovo che ho pagato 8 euro non potevo aspettarmi nulla di più, ma visto che prima non costava 8 euro, potevano anche sprecarsi un pochino di più. Come sorpresa nell'uovo di Pasqua, secondo me non è male, anche perché se non sbaglio non aveva comunque un prezzo altissimo, forse sì, non mi ricordo. Poi comunque dentro ho trovato questa altra Elsa qui, che questa trovo molto carina, non l'ho ancora aperta appunto per mostrarla a voi, poi c'era dentro questo Olaf, penso sempre della stessa linea di quella Elsa che vi ho appena mostrato, poi dentro c'era questo set di braccialetti, molto molto semplice, e poi in ultima cosa questo qui, che forse è la cosa che mi piace di più. C'è questo sacchettino d'organza viola, con all'interno un portachiavi veramente carino, che però si rovinerà subito, con Elsa, con indosso il primo vestito di Frozen 2, quello viola, e sotto questa specie di pompon azzurro morbidissimo. Lo utilizzerei se non fosse che il pompon è malamente incollato sotto, come vedete già balla completamente, e che vuol dire che in due minuti di numero se io lo attacco alle chiavi questo lo perdo per sempre. Vedete, se almeno questo invece che metterlo nella confezione lo avessero messo dentro all'uovo, sarebbe stato già un pochino più pieno, non lo so. Di sicuro se faccio un paragone con il luovissimo, il pasqualone, non mi ricordo come si chiamava quello di Sailor Moon che mi hanno regalato i miei nonni quando ero piccolo, diciamo che c'era un abisso. C'è un abisso tra questo e quello. Mi dispiace ma quelle cose non esistono più. Le ultime due cose che ho acquistato, secondo me una mi chiederete come mai l'ho acquistata, e l'altra invece vi piacerà particolarmente. E la prima è questa qui, Neonlicious delle LOL OMG, che ovviamente ho già deboxato perché ragazzi lei non la vedrete in nessuna recensione. Come vi ho già detto tempo fa non è tra le mie preferite, anzi non pensavo nemmeno di acquistarla, anzi non volevo nemmeno acquistarla, poi per un discorso come vi dicevo prima con la candela, per un discorso di collezionismo ho deciso di acquistarla soprattutto perché l'ho trovata scontata in un negozio di giocattoli, anzi da GD Giochi. Anzi piccolo momento pubblicità che non mi ha chiesto nessuno ma che faccio io volentieri. Da GD Giochi ci sono gli sconti sulle LOL OMG e forse sul Rainbow High, no forse no, forse solo sulle LOL OMG. E ragazzi se siete di Verona e vi interessano Yankee Candle andate assolutamente allo Yankee Store Verona, lo trovate su Instagram, lo trovate se non sbaglio anche su Facebook, ma comunque vi lascio il link Instagram qui sotto. Se non sbaglio fa anche spedizioni, è un ragazzo gentilissimo e quando entrate lì non potete che uscire con qualcosa, purtroppo, o per fortuna, per fortuna per lui, purtroppo per me. Comunque sì, Neonlicious alla fine l'ho acquistata per un discorso di collezionismo, confermo quello che pensavo, è sicuramente fatta bene ma non incontra molto i miei gusti. Ho provato a vestirla solamente con questa robina qui trasparente e devo dirvi che è tutta un'altra cosa, però effettivamente diventa un po' troppo vacca, anche per me, e il che è tutto dire. L'ultima cosa che ho acquistato, purtroppo erano due ma me ne è arrivata solo una, sto aspettando Amazon che è in ritardo, sicuramente arriverà domani, è questa Spicy Babe. Ho acquistato lei insieme alla sua BFF Sweets, Sweets vero? Oddio, ho un vuoto, mi pare di sì. Vi metto qua un'immagine perché sta arrivando, l'ho acquistata e Amazon purtroppo me le ha spedite in due pacchi diversi, quindi questa è arrivata proprio oggi e domani mi arriverà sicuramente l'altra. Non vedo l'ora che mi arrivi in modo da farvi una recensione, quindi sicuramente queste ve le recensierò subito. Penso che il video di queste lo vedrete già venerdì e ovviamente saranno tutte e due insieme essendo BFF. Quindi ragazzi, come sempre... Cosa volevo dire prima? Mi sono perso, completamente. Devo dirvi che sono un po' terrorizzato dalle LOL perché ho visto che ne devono uscire una balanga e sono una più bella dell'altra. Non pensavo mi partisse questa malattia delle LOL OMG, ma ragazzi sono veramente bellissime. La cosa che un po' mi lascia perplesso sono le Twins, che è una nuova linea di LOL che dovrà uscire, ma magari ve ne parlerò più avanti quando comincerà effettivamente ad uscire, che però non lo so, mi lascia un po' perplesso, non mi convince particolarmente. Ovviamente è passato, non so se avete visto qui un alieno, un UFO, perché c'è una mosca che fra un po' me la mangio, ma dicevo che sì, appunto ci sono... la smettiamo? Stavo comunque dicendo che sono una più bella dell'altra, le LOL che devono uscire e ho il terrore per il mio portafoglio. Comunque ragazzi, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate dei miei acquisti qui sotto e soprattutto fatemi sapere se vi interessa vedere la review di questa. Neon Leashes ve l'ho detto no, non chiedetemela perché non la farò, perché non ha senso, l'hanno fatta tutti e la recensita praticamente chiunque. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia e ovviamente le solite cose, fatemelo sapere lasciando qui sotto un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguendomi anche su Instagram. Una cosa che volevo dirvi per piacere, guardate il video sui capelli, perché ci ho tenuto tantissimo a farlo, ma non sta andando molto bene. Evidentemente è più interessante e curiosare nelle mie cose che ascoltare i miei consigli, ma ci terrei che lo guardaste. Quindi credo che comunque continuerò quella serie di video perché trovo che siano utili, però se andaste a guardarlo a dargli qualche visualizzazione in più, di sicuro non mi dispiacerebbe. Io intanto ragazzi, come sempre, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Cosa cazzo volevo dire? Boh, sono sempre il solito. Ecco cosa volevo dire, mi stavo dimenticando. Volevo rispondere a questo commento che vedete qui, dove dall'alto della sua intelligenza mi dice che io facevo vedere le mutande solo per fare views, che semplicemente non ho più fatto vedere un mutande sul mio canale perché non ho più comprato mutande. Ne ho un cassetto pieno, ho detto che devo fare un decluttering di mutande, forse c'è un motivo se devo fare un decluttering. Ovviamente ragazzi, visto che è un tema che a qualcuno tocca profondamente, vi assicuro che se dovessi comprare altre mutande ve li mostrerò.